lo start è l'ingresso di Parpignol e accanto quello di Piccola Mia dovrebbe essere tutto pronto, via Cappucci, a posto dietro, ci siamo Boris dall'esterno, prova ad andare davanti su Piccola Mia, Parpignol, Maggiolone, Multicolors e Lucinasco con Boris che di comodo va davanti su Maggiolone Maggiolone va su Boris, i due in linea, a precedere Multicolors e Lucinasco Piccola Mia e Parpignol, prova a graduare il line saggiomo a largo c'è però Anna Lupinacci con Maggiolone e due amazzoni davanti a precedere Multicolors, di dentro Piccola Mia, passa Maggiolone ora in piena spinta in coda a Parpignol, in piena spinta Maggiolone in vantaggio su Boris Maggiolone scappa, attenzione, Maggiolone scappa a metà della curva su Boris e poi un quartetto che si studia con Maggiolone in evidente vantaggio su Boris Maggiolone in vantaggio su Boris, Multicolors, Lupina e Lucinasco, di dentro Piccola Mia ed in coda Parpignol Maggiolone a 600 metri dal palo in fuga per la vittoria da Boris, da Multicolors, da Lucinasco, di dentro Piccola Mia a largo di tutti Parpignol con Maggiolone che è in buon vantaggio su Boris Piccola Mia, Multicolors, Lucinasco e Parpignol con Maggiolone che è ancora in fuga da Piccola Mia, Boris, Multicolors e Parpignol Maggiolone in netto vantaggio a 200 metri dal palo su Piccola Mia che precede Multicolors e Parpignol, Maggiolone è un po' stanco attenzione, Maggiolone è stanco, ci provano Piccola Mia, Multicolors e Parpignol a fil di palo, strettissima, ma forse qui c'è stata una doppia esultata sia di Lupinacci che di Petrazi davanti alla televisione, una vinta e una no guardavo la corsa insieme, Franco Lupinacci e Francesco Petrazi hanno risultato tutti e due secondo me l'ha preso proprio sul palo no, è strettissima, c'è anche Multicolors, ma è strettissima tempo di galoppo che decide, amici un arrivo millimetrico, la sensazione amma mia che sensazione, qui si va dal giudice al limite della parità e c'è un cavallo in libertà, attenzione siamo al limite della parità tra Maggiolone e Piccola Mia, poi Multicolors e Parpignol una corsa bellissima quindi 5-7, poi 2-3, mentre Antonio non vedo Ferra Mosca ma Ginasco è stato ripreso foto strettissima quindi tra Piccola Mia di fuori e Maggiolone di dentro terzo probabilmente Multicolors e quarto Parpignola, hanno sottovalutato la fuga di Maggiolone mettendosi tutti in difficoltà nella rincorsa, è tutto Sandro, io sono in pista Anna è già rientrata, vediamo se poi riesco a... C'è Antonio in piedi che è passato avanti a te quindi tutto a posto Sì, Antonio sta rientrando a piedi facciamo un mezzo giro con Federico se tu Sandro riesci a fermare poi Anna io intanto sento Federico Io ho risultato ma è brutta È molto stretta, eh Federico? C'ha la testa bassa, lei io no Seriano Incertezza dalla sella di Piccola Mia che però potrebbe aver acciuffato proprio sul filo di lana Maggiolone ovviamente aspettiamo l'ufficializzazione però io propenderei un pochino per Federico Frommia Anna dove vai? Sensazioni dalla sella? No, ma ha preso sicuramente Ha preso sicuramente? Sì, sì, da lì si vede che mi prende Enrico ha detto sicuramente ma ha preso Federico è più dubbioso la foto è strettissima rivediamo ancora il fermo immagine sul traguardo beh, come ha detto ieri in cronaca Mirco Frati per un arrivo da Benzema Avvito 5 Enrico così ha detto il dottor Gentile commissario che mi ha fatto 5 dita ora se poi le due le hanno nascoste dall'altra mano lo so o voleva darti un 5 boh, non lo so però il messaggio ci sembra aver capito che ha vinto il 5 in maniera ufficiosissima chiaramente però così te la vendo come me l'hanno venduta aspettiamo l'esito del photo finish foto 5-7 terzo posto per il 2 allora vediamo anche l'immagine di sellaggio e poi vediamo la corsa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti